Ehi, ma che... Tenetelo Tenetelo Siete solo due cagassò Siete solo due cagassò Le mie ore di sonno, chi me le ridà? Chi me le ridà? Per il tuo estupido Ma certo che sì, Lian non... Ma noi non sappiamo cosa fare Pensavamo che voi avreste fatto qualcosa di divertente Chelsea, basta andare da tu Fifty dollars Non sarò però io Però non posso andare da su Cosa ci frega, John? Intanto parliamo di questo Porco Cosa ci frega, John? Intanto noi continuiamo Ehi Avete rotto i... Come si dice, aspetta il Montalbano I... I... Mamma Misi I... I Gamba Misi Ma che c***o? Su Instagram c'era questo sondaggio di questa compagnia Che chiedeva se qualcuno voleva giurci Se la comp... Scusami, pezzo C'è troppa cacca, non riusciamo a tirarci un'acqua Aiuta Aiuta Oh 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 E' lì Vedo che ave... Eheh Mettete se la vi Eheh 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 Ma... Ma cosa? Non sapevo se potessi morire di beviggio di berla Cosa? Chi è stato? Si vede la mano Oh Ehm C'è se sei... Perché non la muovi tu? Devo fare tutto io Ehm Eheh Ma non è banana fish al posto del cervello Ehm Mai giudicare un litro da una copercina Ah Ah Perché io voglio vedere... Perché io voglio vedere... Aia Ho battuto ora adesso Ho battuto Ah Finalmente Posso mangiare le mie schifecce Anche lei vuoi mangiare... No 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 Zitte No Shhh Eheh 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 Schifoso No dai Qualcuno di noi sei qua ci sta prendendo in giro Eheh Eheh Qualcuno di noi sei sta facendo l'egoista ok? Senta dillo come... Eheh L'unica cosa che arriverà sarà una bella diarrea a questo tipo Ehm 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 No Non è che comprando i biscotti il problema si risolverà Questa persona continuerà a ingordirsi A ingolfarsi A ingolfarsi Com'è che si dice? Non so Non i piedi A ingerire golfoni Non è che i comprandoli il problema si risolverà Aaaaaaah Non è che i comprandoli Sì Cosa... Aaaaaaah La cosa divertente... anzi la cosa buffa Cioè si potessi... Aaaaaaah Aaaaaaah Jay che stai facendo? Oh! La pipino un angolino Un... Razza di... Uff si che c***o guarda Ehm Ragazzi no Per favore Però madonna Aaaaaah Aaaaaah Ok No senti C'è qualcosa in camera Aaaaaah 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 No mi cadono le braccia Aaaaaah Ascoltavi Michele Forse c'è qualcosa in camera O forse qualcuno Non ha chiuso l'acqua No non ha tirato giù l'acqua Aaaaaah In bagno devi... Ma che si fa? Un morto lì dietro Aaaaaah Aiuto aiuto Un ragno Aaaaaah 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 No ehi Si chiude la porta Aaaaaah 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 Ehi! Aaaaaah Da oii! Aaaaaah 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 Un fazoletto Aaaaaah Per la chicca di siano Aaaaaah Baaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Un fazoletto No non c'è un cuore Ma come? Allora lo mangio adesso No, John, la sfilata è iniziale di... Ma come? Allora lo mangerò tutto adesso! Eh no! Un gorilla! Che spoglione! Il diavolo si contorce!